Questa mattina mi porto a fare un giro in autobus, del resto devo andare a Dapia a fare un po' di spesa e l'unico modo per raggiungere la capitale è il bus. Quindi stamattina giro sull'autobus Samuano per l'isola di Upolu, dal Sina Village, Tafitoala fino ad Dapia, la capitale, sull'autobus. Venite con me e andiamo. Aspetto il bus, ma il bus non arriva. Mi avevano detto mezzogiorno, ma sono le 12.35 e ancora niente. Come, come con il buono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.